Ciao a tutti e benvenuti, stasera per la prima volta su Bold Online abbiamo un ospite, abbiamo deciso di cominciare col botto, abbiamo una persona seria, abbiamo un giornalista vero, non me come al solito, sono solo un topo di archivio, un giornalista vero, un giornalista che lavora sul campo, adesso aspettiamo un attimo che entri un po' di gente, che probabilmente anche il fatto che io mi sia presentato in ritardo vi ha colto un po' di sorpresa, ma è tutta colpa mia perché non mi funzionava l'audio di Cristiano. Da quanto tempo fai questa trasmissione? Come? Da quanto tempo fai questa trasmissione? Io in realtà ho iniziato a fare delle live, ho iniziato a fare dei video su YouTube poco dopo che è iniziata la guerra in Ucraina, purtroppo non riesco ad essere regolare, quindi in realtà era un mese quando facevo una live, mi occupo di relazioni e conflitti internazionali, come avrei visto quando mi hai incautamente accettato l'invito. Però ecco, comincia ad entrare un po' di gente. Sto mettendo anch'io di nuovo, sto rituitando. E niente, io direi che iniziamo, siamo una ventina, aumenteranno. Niente, stasera era una live che in realtà io speravo tantissimo che Cristiano mi dicesse di sì, in realtà pensavo che mi mandasse a spendere, come si dicono da queste parti, e invece mi ha detto di sì. Ci tenevo moltissimo perché ho visto il tuo lavoro, ho visto Crossfire, l'ho trovato un lavoro giornalisticamente straordinario perché dietro c'è un lavoro sul campo, c'è un lavoro di documentazione che è un po' la stella polare dei contenuti che io cerco di portare ai miei spettatori. Io cerco sempre di... quando ho presentato questa live ho detto invitiamo Tineazzi perché qua non si invita della gente che ha delle opinioni, qui si invita della gente che lavora per dimostrare le cose che dice, che fa della documentazione. a me è piaciuto moltissimo il tuo lavoro perché è un lavoro estremamente difficile ed è un lavoro estremamente difficile giornalisticamente parlando per una quantità di motivi che poi lascerò ovviamente a te dire. Intanto mi piace seppene che tu per i pochi, in realtà credo che stasera non saranno più per te che per me qua, ma per i pochi che non sapessero qual è la tua carriera, che tu dicessi insomma cosa hai fatto visto che ne hai tante da dire. Vabbè sintetizzo. Diciamo che ho iniziato il lavoro di giornalista nel 2004, precedentemente ho una laurea in storia, storia moderna, lettere in diritto storico moderno, inizialmente mi sono sempre occupato di Medio Oriente e l'area Mena, tant'è che tutti i lavori che ho fatto all'inizio, fin dal 2006 sono stati concentrati in quell'area. All'inizio, la prima guerra che ho coperto è stata quella del conflitto tra Israele e Pola, poi l'Iraq, poi l'Afghanistan, poi sono tornato in Iraq e poi sono scoperto le primavere arabe e quindi mi sono concentrato sulle primavere arabe e quindi ho seguito la rivoluzione dei Gelsomini, poi ovviamente il conflitto in Libia dove ho passato tantissimi mesi prima Tripoli come corrispondente per un'infinità di testate nazionali e poi dopo in pratica ho switchato e quindi sono rientrato in Libia al seguito dei ribelli quando hanno preso Tripoli. Quindi sono riuscito a coprire i due lati del fronte e poi è scoppiato il conflitto, la guerra civile in Siria e quella è stata, credo che sia stata la prima, già con la Libia c'era comunque tutta questa disinformazione non così strutturata, poi con la Siria si è veramente sviluppato questa sorta di, come si dice, di informazioni, di controinformazioni, informazioni libero che in realtà era un vettore assoluto di fake news che continuavano a circolare in rete e che poi oggi con la guerra in Ucraina e poi col conflitto israelo-palestinese si è sviluppato ai suoi livelli massimi. Però lì in Siria è stata uno dei conflitti più duri che ho seguito, io l'ho coperto, inizialmente ero entrato regolarmente, quindi ero a Damasco, poi ho seguito quasi tutto il conflitto dalla parte dei ribelli e lì con la RAI, con Medeo Ricucci che purtroppo è deceduto, che era uno dei più bravi giornalisti di esteri della RAI, realizzammo Siria 2.0 la battaglia di Aleppo per RAI Storia. Poi dopo ovviamente c'è stato di nuovo l'Iraq, la presa di Mosul, la creazione dello Stato Islamico e poi dopo tutta la battaglia per riprendersi il territorio contro lo Stato Islamico, quindi ho seguito tutto quel conflitto, poi l'evoluzione dello Stato Stato Islamico nelle Filippine, dove ho fatto dei bellissimi lavori nel sud delle Filippine, a Mindanao e poi a Sulu, che è uno dei posti più belli e più pericolosi del mondo, e poi nel frattempo nel 2014 scoppia Maidan, 2013, fino al 2013 Maidan, io ho iniziato a seguire in Ucraina nel 2014, però la prima volta che sono stato in Ucraina è stata nel 2015 e la prima volta che sono stato in Ucraina è stata proprio nelle zone separatiste, quindi ho avuto modo, diciamo, di vedere di prima mano quello che stava accadendo nelle zone che i russi stavano controllando attraverso i loro player locali. Principalmente io lavoravo per il messaggero e per la radio-televisione svizzera, con la quale ancora sto lavorando e sono producer sia per la radio che per la televisione, quindi insomma ho sentito... E tra l'altro è fatta benissimo, io non so se, lo dico anche agli ascoltatori, la televisione svizzera è fatta benissimo, cioè è una roba che specialmente i programmi in italiano, tu li guardi, vedi una televisione in italiano che da noi non esiste. È una cosa abbastanza impressionante da guardare. Assolutamente. Quindi un percorso, diciamo, coi galloni proprio del corrispondente di guerra e più di così non si può. Magari adesso iniziamo un pochino a parlare di Crossfire, ho detto Crossfire è un film molto difficile per tanti motivi diversi, da fare. È un film molto difficile da fare per tanti motivi diversi. Intanto per chi ancora non l'ha visto, se vuoi sintetizzare un po' il caso fondamentalmente, Rocchelli e poi il caso anche giudiziario, se vogliamo. Insomma, vedi tu come la vuoi impostare. Sì, il Crossfire è la ricostruzione di quanto è avvenuto nel 2014 a Sloviansk, che ai tempi era occupata dalle forze separatiste e dai russi, e ricostruisce l'omicidio di due giornalisti che sono quelli di Andrea Rocchelli e di Andrei Mironov. E nello stesso tempo poi segue tutto il caso giudiziario che è successo dopo, ovvero l'arresto di un soldato italo-ucraino, Vitali Markiv, che viene accusato dell'omicidio di questi due giornalisti e che viene poi condannato in primo grado a 24 anni di carcere per un reato in concorso, quindi una pena altissima che normalmente non si vede neanche dare magari ai peggiori criminali. Da lì nasce tutto un lavoro di investigazione che cerca di ricostruire i fatti e che nota subito delle grosse incongruenze, incongruenze che poi dopo vedranno Markiv essere assolto con formula piena in appello e la sentenza viene poi confermata in Cassazione. Se uno mi chiede ma perché hai iniziato a occuparti di questo caso? Questa è una bella domanda perché complicarsi la vita. Sì, c'è sempre un motivo, non è che ti occupi di un caso così, perché ti piace. Nel 2014-2015 avevo iniziato a creare quella che era la struttura del World Reporting Training Camp, che è un corso EFAT, che vuol dire Hostile Environment First Aid Training, è un corso di addestramento per giornalisti, operatori delle informazioni. E poi di questo dopo ne parliamo, perché mentre… E avendo disponibilità di più giubbotti antiproiettile, avevo noleggiato un paio di giubbotti antiproiettile a dei colleghi che erano andati proprio a Donetsk in quel periodo e quindi stavo seguendo, pur non essendo lì, poi sarei stato lì un anno dopo, però stavo seguendo tutto quello che stava avvenendo, perché appunto avevo dato questi giubbotti a questi due colleghi e in qualche modo stavo monitorando la situazione sulla loro sicurezza. Questi colleghi poi, quindi loro, saranno anche testimoni poi al processo contro Vitali Marchio. E quindi ero in una chat di giornalisti, ci sono delle chat segrete che ci sono su Facebook, c'è una chat, diciamo, generale che si chiama Vulture, dove ci sono 7-8 mila, credo, forse anche di più, giornalisti internazionali, e poi ci sono delle chat, delle sotto chat segrete che sono delle chat che si occupano di logistica in paesi, diciamo, in aree di crisi. E una di queste era proprio sull'Ucraina. Proprio in quei giorni, una settimana prima della morte dei due colleghi, apparve un messaggio di un giornalista del New York Times che invitava tutti i colleghi a non recarsi in un luogo a Slaviansk, che era proprio dove sarebbero poi morti i due giornalisti. Era un passaggio a livello, era la cosiddetta linea del fronte in quel momento. La linea di contatto proprio. Era una linea di contatto, c'erano i separatisti che controllavano la città e poi avevano il controllo di tutta più o meno la linea ferroviaria che si svolgeva intorno alla città, quella era più o meno la linea di contatto. E poi c'era questa collina, la collina di Karachun, dove erano asseragliati gli ucraini in evidente difficoltà in quel momento perché comunque erano quasi isolati. E lì c'era un'antenna delle telecomunicazioni che era la priorità che avevano era quella di difendere questa antenna. Abbiamo perso Cristiano, sta rientrando. Ci sei? Sei tornato. Avevo appunto, avevo in contatto con questi ragazzi e quindi ho raccolto le prime informazioni dal campo di quello che era avvenuto. Poi la cosa, sai, la cosa è un po' sparita come succede sempre quando succedono fatti del genere, come è successo anche l'ultimo con l'incollega di Repubblica, con la morte del suo fixer a Kerson. C'è il fatto di cronaca, poi dopo qualche tempo questo fatto di cronaca viene inghiottito in qualche modo dalle notizie che continuano ad arrivare dalle zone di conflitto. E quindi fino a quando non c'è stato l'arresto di Marchi che è avvenuto nel 2017, io ero in contatto con altri giornalisti, si parlava, si discuteva del caso, però era uno tra i tanti che avevamo tra le mani dei fatti di cui si parlava. E poi in pratica una di queste persone a cui avevo noleggiato il giubbotto mi contatta dicendo che era stata convocata dalla polizia questa persona, perché come persona informata sui fatti volevano sentirla. E da lì poi dopo qualche tempo è arrivato l'arresto di Vitali Marchi quando è rientrato in Italia, questo soldato in pratica che era a Kiv, era nella Guardia Nazionale, decide di tornare in Italia per visitare i parenti e viene arrestato all'aeroporto di Bologna. E da lì poi quando c'è questa notizia di arresto in pratica io e Danilo Elia che è un collega che si è sempre occupato di Est Europa e che adesso è in Rai avevamo incominciato a scambiarci opinioni su quello che stava avvenendo. Poi si sono giunti altre persone, si è giunto il cavato Cariuk, si è giunto Ruben Lagattola e in pratica siamo arrivati poi al primo grado dove tutti pensavamo che in qualche modo non ci fossero elementi utili per capire che cosa era successo. In realtà poi questo soldato viene condannato appunto a questa pena altissima di 24 anni. E quindi in quel momento decidiamo di scavare e di fare una controinvestigazione, cioè di metterci seriamente a lavorare sulle carte del processo, di vedere quale sono tutte le criticità di questa ricostruzione e decidiamo poi di andare sul posto più volte per cercare nuovi elementi. E mentre lo facciamo in pratica poi c'è l'appello e ormai noi eravamo giunti a delle conclusioni che appunto dimostravano la sua estraneità, comunque la sua non colpevolezza in quanto non era neanche possibile provare il fatto che li si trovasse in quel momento a quell'ora sulla collina, la distanza, insomma una serie di fattori e in quel momento poi arriverà la sentenza d'appello che conferma le nostre posizioni. Quando noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro abbiamo ovviamente avvisato più persone, abbiamo avvisato anche la famiglia Rocchelli, abbiamo cercato di intervistarla, abbiamo cercato di intervistare Cesura che era l'agenzia fotografica di cui faceva parte Rocchelli e abbiamo sempre ricevuto delle porte in faccia. Anzi mi ricordo che la domanda che mi fece era ma perché a te non va bene la sentenza di primo grado? E dissi no, c'è qualcosa che non mi torna, io faccio giornalista. Ah ma tu giochi per la squadra dell'Ucraina? Io non gioco per nessuna squadra, non mi interessa. Tant'è che noi abbiamo sempre avuto il dubbio, dico ma se poi le cose, le investigazioni che abbiamo portano alla colpevolezza, questo dobbiamo farlo, diciamo ovviamente. Cioè il lavoro del giornalista è quello, è quello di scavare, di non trovare la verità. Fuori piove. Certo, la verità non esiste, sto dicendo poi quelli che dicono ah siamo alla ricerca della verità, sono un po' ridicoli. Il lavoro nostro è quello di verificare i fatti, di verificare le fonti, di trovare delle fonti, di cercare di mettere tutti i tessali insieme per costruire una storia o per verificare se quella storia ha una sua credibilità o meno. Sì. Nel processo ci sono due piani, leggendo gli atti, guardando il documentario, che si incrociano continuamente. Uno riguarda la vicenda personale del soldato Marchi e il suo ruolo eventuale durante il processo nell'uccisione dei due giornalisti. e uno riguarda un piano di descrizione della realtà in cui tutto questo accade, che è un quadro molto più politico. Ed è un quadro che mi è tornato alla mente l'altro giorno quando guardavo Breaking Italy con Travaglio, dove Travaglio dice la guerra scoppia nel 2014 perché gli ucraini attaccano i russofoni, no? Ed è esattamente quello che fondamentalmente sta sul fondo della sentenza di primo grado ed è quello che alla fine sopravvive quasi anche alla soluzione di Marchi nella storia giudiziaria. Cioè questa, tu ne parli molto bene, secondo me, con molto tatto nel documentario, la scomparsa dei filorussi. La scomparsa dei filorussi in un posto in cui, come pochi, è molto significativo chi c'era dall'altra parte. Cioè chi c'era in quelle posizioni, chi ha visto i miei video e che qui sa quanto io abbia parlato di Igor Gyrkin, quanto io abbia parlato quelli sono i giorni di Aleksandr Zukoski che ha scritto un libro 85 giorni a Slavyansk. Questi due piani come si sono incrociati, come si sono risolti sia nel tuo lavoro che nella faccenda giudiziaria, nella vicenda giudiziaria. Beh, scusate, riassumini, scusa, le due cose che mi hai chiesto erano una, era la ricostruzione dello scenario, la prima era? Sì, da un lato c'è questo scenario, che tu ricostruisci molto bene all'interno della guerra, la guerra, c'è la guerra vera, ci sono personaggi di primo piano in quel momento, personaggi che hanno fatto la storia, c'è gente che finirà veramente nei libri di storia e questa cosa nella vicenda processuale scompare del tutto. Sì, assolutamente. E dall'altra parte invece c'è la vicenda personale di Marchi che comunque in tutto questo è quasi una comparsa. Allora, ci sono due fattori secondo me che sono stati determinanti in questa ricostruzione che poi è assurda che hanno fatto gli inquietanti. Appunto, quello che dici tu, la prima è quella è proprio la negazione di un conflitto in corso. Cioè, sia in primo grado che in appello continuano a ripetere, lo dice anche il PM in appello, dice in quel momento non c'era la guerra, lo dice l'avvocato della difesa di parte civile, in quel momento scusate, non della difesa, l'avvocato di parte civile dice in quel momento non c'era la guerra. Quando tutti gli elementi che abbiamo trovato noi dimostravano il contrario, ma lo dimostra anche la storia al contrario, cioè Slavians che era il bastione armato dove c'era Igor Gierkin, detto Strelkov, che non è l'ultimo dei personaggi e che adesso tutti conoscono perché è finito in carcere in Russia. ma in realtà Gierkin era un agente dei servizi segreti russi e c'erano altri elementi che sono stati trovati, c'è anche quella famosa fotografia di quella donna con il mitre in mano nel film che è Olga Coligina che è un altro agente dell'FSB vestita come una qualsiasi donna normale però aveva un mitre in mano e quindi si combatteva in quel periodo erano stati in quei giorni erano stati anche sequestrati dei rappresentanti dell'OSCE si continuavano a sequestrare persone per avere potere politico di scambio da parte dei separatisti e tutto questo tutto questo contesto di ribellione armata quindi non di rivolta popolare ma di una ribellione armata che è controllata da Mosca nella ricostruzione il processo non esiste e lo dice bene anche il sostituto procuratore Enrico Zucca dice sparisce sparisce l'altra parte non c'è c'è solo ci sono solo questi ucraini che sparano e quindi se si viene a creare questa storia avulsa questa monca questa ricostruzione monca non si riesce a capire niente di quello che stava avendo in quel periodo e non si riesce neanche a capire perché c'erano così tanti giornalisti lì in quel periodo secondo fattore è appunto la ricostruzione che viene fatta della figura di Markiev che viene dipinto come un sostanzialmente nazista cioè lo definiscono un estremista di destra senza nessuna prova non c'è niente che provi che lui sia un estremista di destra cioè vengono trovate delle fotografie dove c'è un gruppo di soldati che ha una bandiera nazista dietro però lui non c'era lì dentro vengono trovate fotografie di persone intorno a un'altra persona con una pistola in mano e di un cadavere bruciato insomma di armi e quindi si cerca di costruire questa persona come se fosse un criminale un estremista che è andato là appunto perché perché è un cattivo che vuole sparare e uccidere i giornalisti quando in realtà Markiev e ce l'hanno confermato tanti giornalisti italiani Markiev viene conosciuto dai giornalisti italiani a Maidan e siccome parlava italiano e lui aveva incontrato questi giornalisti che parlavano italiano si era diffusa la voce che c'era questo questo ucraino che parlava italiano un fixer prima che soldato sì più che un fixer diciamo era una persona con cui i giornalisti avevano un rapporto e potevano chiedere informazioni Markiev poi si arruola nella Guardia Nazionale e anche lì viene descritto come un miliziano irregolare facente parte di bande autonome in realtà lui era un soldato regolare della Guardia Nazionale in quel momento e in effetti era un periodo in cui di bande autonome volendo ce n'era nel senso il fatto che si sia arruolato nella Guardia Nazionale non è neanche banale da questo punto di vista no? assolutamente in quel periodo l'esercito ucraino non esisteva sostanzialmente quindi c'erano tutte queste unità l'area lì c'era la tornado c'era l'area lì ce n'era di gente complessa diciamo ecco volendo c'erano tanti altri gruppi magari più cattivi insomma responsabili anche di crimini di guerra che ci sono stati in quel periodo anche da parte ucraina però in quel caso c'era la collina era tenuta dal 95 battaglione ero trasportato e dalla Guardia Nazionale e però quindi questa persona viene descritta come in quel momento girava la bulgata cioè che gli ucraini erano un gruppo di estremisti il golpe di Maidan la rivoluzione popolare in Donbass e quindi loro che reprimevano questa rivoluzione con le armi e quindi questa logica questa ricostruzione è stata portata dentro il processo tant'è che viene anche citato a un certo punto dalla parte civile viene citato un documento non mi ricordo se era di Human Rights Watch o di un'altra organizzazione internazionale dove c'era questo elenco di giornalisti uccisi e però questo elenco di giornalisti uccisi era solo il frontespizio di questo rapporto in realtà il rapporto poi spiegava che c'erano tot giornalisti che erano stati uccisi ma la maggior parte di questi giornalisti erano stati uccisi dalle bande separatiste o erano stati sotturati o erano stati sequestrati tra l'altro chiunque vada a guardare anche sul sito di Reporter South Frontier può trovare la lista dei giornalisti morti in Ucraina dagli anni 90 ad oggi e può vedere tranquillamente per ognuno di loro che cosa è successo e quali sono i tipi di morte da che cosa sono stati causati quindi insomma c'era queste due cose c'era questa ricostruzione falsata dello scenario che non corrispondeva alla realtà e poi c'era questa demonizzazione dell'imputato che è stata anche funzionale ai media di quel periodo perché molti giornali in quel periodo cavalcavano questa idea della demonizzazione degli ucraini bollandoli come estremisti per cui anche quelli che andavano al processo a vedere il processo a seguire il processo che erano normali cittadini ucraini che venivano lì molte donne che facevano anche lavori umili e che magari si prendevano un giorno di lavoro di ferie per andare di permesso per andare al processo venivano bollati come estremisti di destra questo atteggiamento ormai è cambiato almeno nel 90% 90% dei media ma in quel periodo era molto forte questa bulgata e quindi erano queste due cose che si sono mescolate e che poi hanno ancora il periodo in cui perdonami era ancora il periodo in cui su Repubblica leggevi gli articoli che parlavano della guerra in Ucraina e iniziavano con Mosca due punti perché chi li scriveva Mosca fondamentalmente filtrava quello che sentiva Mosca e c'è stato un periodo molto lungo dell'informazione italiana che è stato completamente rimosso oggi non se lo ricordo più nessuno ma gli effetti gli effetti sono 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 presenti sono 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 duraturi assolutamente purtroppo ma ed ecco io una cosa che mi ha molto impressionato guardando il tuo film è il il ruolo che all'interno del tuo film all'interno della tua indagine hanno i familiari dell'altra vittima cioè il fatto che i familiari di Mironov hanno partecipato al tuo progetto in maniera attiva cioè ed è un risultato per uno che si mette a fare un film in cui sostanzialmente si mette in discussione l'unico procedimento penale che è stato avviato sulla morte del loro la zio e il fratello sono la nipote e il fratello è una cosa che mi ha mi ha un po' colpito un po' soccato ecco si guarda ti devo dire io mi ricordo la prima volta che ho chiamato Sofia che è la nipote acquisita di Mironov in pratica lei il padre di Sofia è stato nei Gulag insieme ad Andrei Mironov e quindi sono quasi fratelli di sangue in pratica e lei diciamo è cresciuta con la figura di Mironov in casa l'ha sempre chiamato zio quando l'ho chiamato per la prima volta mi ricordo che ero a Roma in centro e lei quando ha ricevuto questa telefonata era molto fredda era molto fredda ovviamente perché anche lei mi diceva ma perché vuoi investigare ma c'è già stata una condanna ma che cosa vuoi da noi insomma poi col tempo piano piano insomma siamo riusciti a stabilire un contatto un rapporto e io le ho passato poi tutte le carte che sono state tradotte del processo quindi lei a poco a poco si è in qualche modo ha cambiato ha cambiato idea e ha cambiato idea anche quando si è resa conto che spesso il suo nome il nome della sua famiglia veniva utilizzato in maniera impropria anche durante le udienze e poi è successo un altro fatto che gli ha definitivamente fatto cambiare idea che è stato che la fondazione Memorial di Mosca ha condotto una investigazione sempre prendendo le carte del processo poi c'era il Kharkiv Human Rights l'associazione di Kharkiv che ha vinto il Nobel insieme hanno fatto questa investigazione e anche loro erano arrivati a delle conclusioni che erano più o meno simili alle nostre ovvero che c'era una situazione di un probabile conflitto a fuoco che la situazione non era chiara e che poi c'è stato questo bombardamento a colpi di mortaio che ha portato alla morte dei due giornalisti ma la loro presenza è stata fondamentale perché sai quando vuoi ricostruire diciamo un fatto vuoi fare un documentario di tipo investigativo ovviamente se ti mancano delle persone così importanti come i familiari puoi avere anche 3.000 testimoni però manca quella parte che è quella più legata alla persona al ricordo di quella persona e fortunatamente appunto i Mironov sono stati sono stati molto collaborativi tant'è che adesso a Londra presenteremo proprio con la nipote di Mironov presenteremo il film al Frontline Club di Londra che è il tempio del giornalismo di guerra se vogliamo uno dei posti più importanti dove poter parlare il Madison Square Garden del tuo il tuo lavoro praticamente ecco hai citato giustamente Memorial hai citato il lavoro che ha fatto Memorial che fondamentalmente attraverso un lavoro parallelo arriva alle stesse conclusioni del tuo del tuo documentario intanto ti chiederei di spiegare per chi chi non lo sa di cosa di cosa stiamo parlando cioè nel senso stiamo parlando della serie A cioè nel senso Memoriale insomma dillo tu adesso ormai è chiuso i battenti perché ovviamente il regime di Putin ha costretto la fondazione a chiudere però era diciamo la memoria storica del periodo dei Gulag e della repressione durante il regime sovietico il Memorial Human Rights Foundation che è collegato a Memorial si occupava fino a poco tempo fa si occupava della violazione dei diritti umani delle violazioni dei diritti delle persone dei diritti civili e quindi diciamo era l'ONG più importante che c'era in Russia fondamentalmente e che è stata poi chiusa e quindi anche avere questo diciamo tra virgolette riconoscimento indiretto da parte loro per noi è stato veramente come dire una conferma ulteriore del che il lavoro che stavamo facendo era corretto tant'è che appunto il documentario in fase di crowdfunding perché i soldi che abbiamo raccolti li abbiamo raccolti tramite crowdfunding ha vinto proprio un grant da parte della Justice for Journalists Foundation di Londra che è stata fondata che ha nel bordo anche il direttore della Novaya Gazeta e altri esponenti del giornalismo sia inglese che russo persone importanti che hanno sempre fatto opposizione e si sono sempre occupati dei diritti umani giornalisti russi veri non quelli che vediamo nelle nostre televisioni che vengono costantemente chiamati giornalisti perché giornalista ricordiamolo sempre in Russia non si può fare è illegale fare il giornalista in Russia quelli che vediamo nelle nostre televisioni non sono giornalisti i giornalisti veri continuano a farlo per lo più all'estero e sono queste persone di cui parla Cristiano che poi sono le persone che da noi nessuno mai intervista non ci parla mai nessuno con questa gente e di fatto non esistono nel nostro dibattito pubblico ed è gente che quasi tutti hanno un collega ammazzato alcuni di loro si sono presi il disinfettante blu in faccia e comunque devono lavorare dalla Lettonia dalla Lituania da Londra infatti adesso non sono un inciso ma tra un paio di settimane dovrei andare su proprio in Lituania proprio a intervistare la diaspora del giornalismo russo che adesso si trova lì quindi quelli di Noia Gazzetta quelli di Medusa quelli di Voice of America insomma Radio Free Europe è un lavoro pazzesco cioè in Italia è una cosa che io non scusami se mi questa è una divagazione Medusa fa un lavoro incredibile perché ha delle fonti dentro la Russia che non ha praticamente praticamente nessuno è una costante miniera d'oro un livello di qualità non ho mai visto non ho mai visto qualcuno citare Medusa in Italia e ogni volta mi gastrico ma tornando tornando a Crossfire sì Crossfire abbiamo detto dello straordinario secondo me il risultato di riuscire a coinvolgere in un lavoro che si muove su un filo così sottile i parenti di una delle vittime abbiamo detto del riconoscimento internazionale arrivato quando Memoriale me la sono vista tutta quella due ore di conferenza stampa arriva sostanzialmente le stesse conclusioni dal punto di vista logistico sul luogo del delitto fondamentalmente cioè le distanze della situazione poi non so se tu vuoi entrare in questo dettaglio qui o se visto non lo so non spoileriamo troppo il film esatto però c'è un tema enorme secondo me che è quello che coinvolge il fatto che probabilmente questo è stato il lavoro più difficile della tua vita per motivi che non attengono al lavoro strettamente cioè questa è stata una cosa per te pericolosa quasi allora ti dirò è stato è stato un lavoro che mi ha prosciugato completamente per più di tre anni che mi ha creato un fortissimo stress perché comunque dovevi occuparti di un caso che ricordava appunto la morte dei due colleghi e appunto lavorare su questo vuol dire lavorare anche come dire sulle emozioni lavorare sul sul tentativo di non in qualche modo voler infierire sulle persone di cercare di far capire che il tuo lavoro non è quello e però purtroppo in Italia da quando abbiamo iniziato a fare questa investigazione abbiamo avuto un muro di gomma di fronte per non citare il muro di gomma famoso del film e questo muro di gomma è stato portato non dai soliti detrattori che potevano essere i vari filorussi che in quel periodo erano abbastanza attivi quindi i vari fazolo e la compagnia cantante insomma che si muovevano sui social ma questi attacchi gli attacchi più duri che abbiamo ricevuto sono stati fatti dalla federazione nazionale della stampa italiana cioè che è il mio sindacato sostanzialmente che è il sindacato dei giornalisti il sindacato unitario e sono stati portati da un altro sito che è legato a loro che è articolo 21 che appunto ha ospitato questo fazolo facendo di scrivere anche un articolo che poi è stato oggetto di una querela per diffamazione per chi non lo sapesse Alberto Fazolo è un attivista che ha combattuto anche fisicamente dal lato dei filorussi all'interno di un'unità che si definiva internazionalista interunit che era schierata non molto lontano da da Sloviansk in realtà che era un'unità dove hanno combattuto secondo il suo comandante circa una trentina di italiani dalla parte dei russi ha avuto anche un discreto specialmente nei primi mesi della guerra di quella io chiamo seconda invasione dell'Ucraina l'abbiamo visto sulla set in prima serata spesso e ha scritto un articolo insomma adesso poi ti faccio continuare perché insomma il pazzole è un po' quindi sai quando ricevi attacchi da questi personaggi come ce ne sono decine che ogni giorno blocco dopo averci un po' giocato insomma su Twitter te l'aspetti insomma da questi elementi non me l'aspettavo appunto questi attacchi così violenti così infamanti da parte di personaggi legati al sindacato dei giornalisti che tra l'altro si era costituito parte civile al processo e anche lì persone che non hanno mai vissuto un minuto in una zona di guerra persone che non hanno mai visto una guerra che non sanno come si fa il giornalismo di guerra che venivano a insultarci perché appunto parlavamo di quello che tutti i giornalisti parlavano in quel momento cioè di che cosa stava succedendo in quel luogo che cosa era avvenuto e capire che cosa qual era stata la dinamica di quel fatto solo per quello in pratica si è alzato questo muro di persone che teoricamente dovevano difendere la libertà di espressione il lavoro dei giornalisti e che in realtà davano addosso a dei loro stessi colleghi e quindi quella cosa è la cosa che più mi ha fatto male io l'ho sofferta tantissimo ho avuto dei momenti anche di depressione che sono andati avanti per diverso tempo perché comunque sono cose che insomma che fanno male queste per chi fa un lavoro come il mio insomma che è basato tutto sulla sulla rispettabilità del nome sulla figura sul lavoro che fai e quindi in Italia c'è sempre stato questo blocco e oggi che è uscito il film nonostante questo era infatti te lo volevo nonostante ci siano tutti diciamo commenti in privato insomma di 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 plauso insomma al lavoro che è stato fatto eccetera eccetera pubblicamente in pochi si vogliono esprimere sempre per questo discorso della sensibilità cioè della sensibilità nei confronti della famiglia Rocchelli però ripeto nel tu l'hai visto il film non c'è niente che è contro anzi io penso che ci sono delle parole ci sono delle parole per Andrea Rocchelli belle cioè nel senso in cui si descrive il suo lavoro si descrive quello che viene anche cioè nel senso infatti mi chiedevo io mentre me lo guardavo perché prima mi sono letto gli articoli poi ho visto il film mi chiedevo ma dopo che è stato visto e lo spirito del film è inequivocabile cioè non è fraintendibile lo spirito del film non è non è un film contro le vittime non è un film mi chiedevo se ci fosse stato un cambio d'atteggiamento perché perché immagino che sia pesante comunque come posizione no guarda io poi non voglio giudicare come dire gli atteggiamenti e la mentalità di una persona che può che ha perso un figlio un parente non 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 io su quello non parlavo dei colleghi è stato al loro posto probabilmente avrei fatto lo stesso nel senso che non voglio entrare in questo non voglio entrare nel giudicare non 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 sono io che posso farlo insomma ecco quindi non assolutamente rispetto il il loro pensiero io parlavo dal punto di vista dei giornalisti dal punto di vista dei giornalisti piano piano qualcosa sta uscendo nel senso è uscito un articolo per l'inchiesta è uscito dovrebbe uscire a breve sul foglio una sorta di recensione del film però mi sarei aspettato qualcosa di più mi sarei aspettato come dire non delle scuse ovviamente da parte di alcune persone perché credo che chiedere scusa sia una cosa molto difficile ancora di più per chi è convinto di essere la parte della ragione però credo che ci vorrà del tempo anche se so per certo insomma che sicuramente far passare questo film diciamo su un canale generalista sarà molto difficile ecco proprio per queste resistenze che ancora si trovano all'interno del mondo del giornalismo sì io penso che questo fattore sia sia ineliminabile fuori in realtà dal mondo del giornalismo cioè penso che sia un film complesso e raffinato e quindi che sia difficile magari vendere capirei se tu se qualcuno mi dice guarda è difficile venderlo a Netflix lo capirei questo non è è un film generalista ma per lo spirito che ne traspare che è uno spirito assolutamente di trasparenza di onestà di grande compassione anche verso quella che è una tragedia e si sente si percepisce Cristiano devo dire me lo sono visto tre volte quindi si percepisce secondo me è sconcertante che dopo che il film è uscito non ci sia da parte quantomeno di una parte significativa del mondo dei tuoi colleghi un riconoscimento anche perché in realtà il tema del come viene dipinta all'interno della vicenda giudiziaria quello che succede in quello che succedeva a Sloviansk in quei giorni cioè il modo assurdo in cui viene dipinta una guerra come se non ci fosse una guerra è un tema sulla quale la gente adesso sta vendendo migliaia di libri cioè migliaia di copie di libri cioè quel quel mindset da una parte e dall'altra intendiamoci cioè c'è chi ci sta pubblicando fior di libri per confermarla quella roba lì e c'è chi ci sta vendendo fior di libri per smentirla quella roba lì cioè di propaganda russa si vende adesso quindi è un tema che è diventato cioè è diventato mainstream mentre tu facevi il film perché purtroppo è successa un'altra tragedia che è la seconda invasione ma questo non ha non ha cambiato non ha cambiato il mondo intorno a te ecco questo volevo sì continuano le narrative le vulgate se vogliamo continuano a essere diffuse ogni giorno ti trovi persone che ti continuano a parlare dei 14.000 morti del Donbass per esempio quando potrebbero soltanto alzare un dito e cercare su internet le fonti reali insomma su questi 14.000 morti però sì è difficile credo che in questo caso si vada a intrecciare appunto il corporativismo comunque del mondo del giornalismo che tende a essere appunto difensore di se stesso in qualche modo difensore dei propri della propria della propria gente anche se poi ovviamente ci sono le correnti all'interno del sindacato però si combattono per altre questioni non per questioni di ontologia se vogliamo ma per questioni di sedie e di programmi e quindi non lo so io penso il problema che sai cosa c'è che il problema è che il film al momento non ha ancora una distribuzione perché è nato diciamo in maniera totalmente indipendente aveva una società di produzione alle spalle che poi per motivi che non sto raccontarti comunque gli abbiamo eliminati e quindi poi in pratica ovviamente non c'è non c'è una società che distribuisce il film cosa che non escludo che potrebbe esserci comunque nelle prossime settimane o mesi ci stiamo lavorando su quello e se trovassimo un distributore probabilmente il film potrebbe essere inserito anche in qualche piattaforma streaming questo questo non lo escludo ripeto magari non è Netflix ma è Amazon e Amazon però appunto ripeto sono cose sulle quali stiamo lavorando lo rifaresti Cristiano? è una domanda difficile allora se devo pensare al male che ho ricevuto probabilmente no se invece devo pensare alla soddisfazione di aver comunque di essere arrivato alla fine di un percorso e di aver avuto ragione su quella storia e che questa storia adesso comunque viene considerata all'estero in maniera diversa da quello che viene considerata in Italia allora lo rifarei e lo rifarei perché comunque c'era un innocente in carcere che ha passato tre anni e siccome io credo nella giustizia ma credo anche nel giusto processo e credo nel diritto sono convinto insieme ai radicali italiani insieme a tante altre realtà che si sono battute e si battono ogni giorno per questo diritto ad essere difesi e avere il giusto processo in un'aula di tribunale credo che lo rifarei ancora pur sapendo che se dovesse ricapitare potrebbe succedere la stessa cosa insomma e questo secondo me è è un problema che abbiamo perché è un problema che abbiamo come sistema dell'informazione come società perché per quello che è il mio ovviamente piccolissimo cioè per quello che vale il mio giudizio Crossfire è un lavoro giornalistico della Madonna perché si è scelto di farlo ancora prima per come è fatto bene è la rottura di tutta una serie di automatismi che esistono nel giornalismo e che sono un cane che si morde la coda di girando ed è importante che qualcuno abbia cercato di fare questo film al di là in realtà del valore del film in sé scusami se lo dico in questo modo non è per però perché era un film quasi impossibile da fare da distribuire da in questo paese in questa in questa situazione c'è qualcos'altro che vuoi dire sul film io perché altrimenti ma sai io spero spero che diciamo che gli elementi che abbiamo trovato perché noi abbiamo trovato appunto non voglio spoilerare il film però ci sono abbiamo trovato testimonianze inedite di persone mai sentite in quella la giudiziaria abbiamo trovato persone che possono sapere realmente cosa è successo in quei giorni che si trovano anche in Italia in questo momento e che stavano gli slavianski che avevano un ruolo di potere in quel momento nella città di Slavianska e che non sono mai state cercate mai state sentite quelle persone potrebbero dire molto potrebbe dirci molto Ghirkin ma Ghirkin è in un carcere e comunque è in Russia io avevo pensato è uno che parla parecchio avevo pensato a un certo punto di andare a intervistarlo quando mi trovo a Mosca nel 2018 perché stavo facendo un lavoro c'erano le elezioni a Mosca quelle comunali io stavo seguendo le proteste di piazza e appunto stavo seguendo anche le violazioni dei diritti e la libertà di espressione in Russia per la Svizzera e avevo pensato di andare a intervistarlo però non avevo ancora abbastanza diciamo elementi in mano e non avevo il giusto contatto per cercarlo per parlare con lui e credo che lui sa tutto quello che è successo non c'era niente che si muovesse in quell'ambito che lui non sapeva e che sicuramente lui aveva conoscenza di tutti i suoi uomini che c'erano in quell'area quindi le due fabbriche che si trovano intorno a quella passaggio a livello chi stava lì che cosa hanno fatto tutti elementi che purtroppo noi non abbiamo potuto accedere ma credo che la soluzione di questa storia potrebbe stare nelle mani anche di qualcuno che si trova in Italia che non è mai stato cercato come diverse persone che compaiono nel tuo film che non hanno fatto non hanno avuto nessun ruolo nella vicenda giudiziaria non so se lo dico agli spettatori non so se vi rendete conto cioè qui stiamo parlando di un lavoro giornalistico che è andato a trovare delle persone che erano sul posto mentre si compieva il crimine e che non sono mai state sentite durante un processo solo per questo andrebbe visto sto film veramente solo per questo con i mezzi di una produzione indipendente sono state trovate e intervistate poi il commento lo lascio a voi senti l'unica cosa che volevo aggiungere è che poi tra l'altro tutta la soluzione di quel processo era in quel frammento di video che facciamo vedere più volte anche all'interno del film che è quello che giro il terzo giornalista presente in quel momento William Rogelon il francese dove c'è è chiarissimo quello che sta succedendo c'è Mironov che parla con l'autista che ha portato lì il gruppo di giornalisti e si scambiano delle informazioni e Mironov gli sta spiegando tutto quello che sta avvenendo perché Mironov era quello che era più esperto di tutti aveva fatto la guerra in Cecenia era una persona di grande esperienza persona che per spiegarlo agli spettatori persona che capisce da che parte arriva un colpo se qualcuno glielo spara e più o meno la distanza da cui arriva e questo documento in pari che non viene considerato cioè non viene considerato addirittura viene detto che in pari che questo documento non è attendibile perché in quel momento Mironov che sta parlando poteva non essere lucido però nello stesso tempo viene raccolta la testimonianza a distanza di una persona che ha vissuto quel trauma quella quella tragedia e viene ritenuta attendibile c'è qualche cosa che non funzionava e che già questo è stato uno dei primi campanelli d'allarme che ci ha ci ha fatto muovere perché non riuscivamo a comprendere come era possibile che l'unica vera testimonianza che è una testimonianza filmata di quel momento non era neanche stata considerata in un processo mi ero scordato di chiederti una cosa e te la chiedo adesso prima di chiudere sul tuo lavoro di formazione che è una cosa che mi interessa tantissimo e che vorrei che chi ci chi ci vede sapesse che esiste che gli venisse descritto insomma ecco a un certo punto c'è una svolta dal punto di vista della comunicazione della narrazione intorno a questo processo perché un importante magistrato italiano decide di fare una cosa estremamente irrituale è una cosa estremamente irrituale questa cosa accade tra il primo e il secondo grado sì sì dopo la dopo la sentenza di condanna dopo il primo grado in pratica c'è questo articolo che esce su altre altre economie forse non mi ricordo il sito appunto del sostituto procuratore di Genova che è Enrico Zuc che tra l'altro non è un nome qualsiasi è proprio il magistrato che istruì i processi contro la polizia per il G8 a Genova per la Diaz e che fa un articolo durissimo durissimo che appunto come dici tu è il rituale perché mai diciamo normalmente mai un magistrato attacca altri magistrati in quel modo o attacca una sentenza in quel modo e lui lo fa ovviamente sulla base di elementi fattuari non è che così perché li girava quella mattina però fa questo bellissimo articolo dove in pratica smonta completamente il lavoro fatto dagli inquirenti dalla magistratura di Bavia voi stavate già lavorando quando è uscita questa l'articolo eravate già sul pezzo infatti poi lo contattammo e poi appunto gli facciamo un'intervista che è contenuta all'interno all'interno è un'altra rottura in un ordine in cui di solito queste cose non succedono cioè il giornalismo italiano è basato sul cane ma non mangia cane fondamentalmente anche nella magistratura è molto strato tra l'altro non credevo neanche che si potesse fare una cosa del genere onestamente l'articolo tra l'altro è anche molto bello da leggere secondo me dopo che avete visto il film se volete potete leggere l'articolo ma solo dopo se no si perde perché è anche bello il modo in cui insomma questa persona quando l'intervisti è uno che parla in un certo modo non è cioè quando apre bocca si sente che non è proprio l'ultimo va bene io chiuderei con una cosa che a me interessa molto e secondo me è anche molto interessante per chi ci guarda perché c'è una secondo me pochissima informazione su questo poi ovviamente sono anche cose sulle quali tu decidi cosa dire tu fai un'attività per chi ci segue dal primo minuto avete sentito del curriculum quando uno dice se le fatte tutte se le fatte tutte tu fai un lavoro di formazione per corrispondenti di guerra che deve essere un lavoro anche bellissimo da fare come funziona cosa si trasferisce cosa come è questo piccolo mondo sai io ho creato il World Report in Trading Camp nel 2015 credo sì era fine 2014 inizio 2015 perché avevo frequentato dei corsi appunto di formazione avevo fatto già qualcosa con un corso che non credo che ci sia più che era organizzato appunto dal sindacato dei giornalisti con l'esercito italiano quindi con la folgore e poi piano piano ho fatto altri corsi all'estero ho fatto il RISC ho fatto altri corsi fatte in Inghilterra insomma mi ero reso conto che in Italia non c'era questa formazione questo tipo di formazione non c'era come dire l'attenzione alla sicurezza sul lavoro per quanto riguardava gli operatori dell'informazione cioè dovunque ormai si parla del controllo delle leggi sulla sicurezza se vai su un cantiere devi tenere il caschetto piuttosto che devi avere delle normative di sicurezza da rispettare il nostro mondo è sempre stato un mondo totalmente anarchico dove non c'era nessuna regola dove alla fine in pratica facevi esperienza come ho fatto io all'inizio facevi esperienza sui tuoi stessi errori cioè se non morivi o se non venivi ferito accumulavi qualche esperienza che ti permetteva di sapere che magari alla volta la volta che poi sarebbe venuta avresti attuato dei comportamenti differenti o avresti attuato dei tipi di sicurezza differenti rispetto a quelli che non avevi utilizzato prima e quindi questa esperienza che ho accumulato nel corso del tempo avevo deciso di come dire di di metterla a frutto creando una struttura che è stata poi il World Report in Training Camp che avevo creato che avevo creato con un collega Ugo Borga e che è durata fino a fino a quest'anno quest'anno abbiamo fatto l'ultimo nel 2023 e da adesso io poi diciamo ho avviato diciamo una mia struttura privata che probabilmente si sarà a Roma quest'anno o comunque nella regione Lazio la faremo e che cosa che cosa trovi in pratica la cosa bella di fare questo corso per me a parte trasmettere diciamo tutto quello che ho appreso sia sul campo che attraverso altri corsi di addestramento è la creazione di una famiglia di gruppi di persone che poi nel corso degli anni rimangono in contatto dal 2015 ci sono stati più di 100 i giornalisti che sono stati formati e che poi molti di loro hanno fatto esperienza in zone di guerra all'estero stanno ancora lavorando qualcuno con successo qualcuno meno qualcuno ha cambiato idea dopo che ha fatto il corso perché si era reso conto che magari non era in grado di sopportare quel tipo di lavoro le problematiche che potevano trovarsi davanti e anche il lavoro di squadra è un diciamo è un è un tipo di addestramento che a me piace fare dove si crea si crea molto lavoro di squadra però è anche molto stressante per cui le persone a un certo punto ci sono persone che non reggono che non sono capaci di lavorare in team e secondo me la cosa più importante quando ti trovi in queste zone qui è lo scambio di informazioni con i colleghi prima cosa e poi avere la capacità di fare team building sostanzialmente e quindi non come dire avere diciamo posizioni dittatoriali perché sei il più vecchio il più esperto ma di avere un ruolo come dire di leader riconosciuto ma che nello stesso tempo fa un lavoro di squadra con il proprio gruppo perché c'è un interscambio di informazioni cioè non è solo a senso unico e secondo me è una cosa bellissima cioè la formazione l'insegnamento in questo campo è una delle cose più belle che ho creato in questi anni e tra l'altro adesso proprio quest'anno c'è una società che mi ha diciamo convocato per fare appunto queste conferenze di apertura proprio a degli eventi dedicati alla sicurezza per le aziende ovviamente io non faccio la sicurezza aziendale però è come dire come 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 testimone come in qualche modo persona che può raccontare veramente sul campo come ci sta al sicuro anche dove è quasi impossibile per definizione è la sua sfortuna eh cosa devo dire però c'è anche quella insomma il nostro lavoro ci sta va bene senti chiuderei con un paio di domande che sono state fatte poi giuro che ti mollo allora intanto mancava poco chiedeva dove si può vedere il film ho messo il link in chat lo trovate anche nella descrizione di questa live in fondo alla pagina che è linkata che è il sito di Cristiano trovate il link diretto e lo potete comprare direttamente lì come ho fatto io e guardarvelo su su Vimeo si interrompo solo perché ci sarà una data a Torino il 13 febbraio al polo del 900 alle 18 proietteremo il film e ancora non ho certezza ma dovrebbe essere il 15 febbraio a Milano il posto ancora non è stata definita il definito luogo però la data dovrebbe essere il 15 febbraio se no si può vedere online ovviamente però se siete a Torino a Milano andatevelo a vedere e qui hai già risposto fondamentalmente ci stai lavorando diciamo che non in tv perché proprio diciamo che in prima serata sul Rai 1 secondo me non te lo mandano però diciamo che già sarebbe quello che hai detto un approdo secondo me e e poi e poi e poi ah e poi sì addirittura una persona ci chiede se senti Markiev sì 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 io l'ho incontrato l'ho incontrato più volte in Ucraina l'abbiamo incontrato per fare le riprese ovviamente perché c'è lui che è stato intervistato anche nel nel film e qui è ancora in servizio sì io poi l'ho incontrato l'ho incontrato a Kiev poco prima che scoppiasse la guerra e tra l'altro l'ho incontrato con un con un collega che è stato testimone a processo contro di lui c'è stata questa sorta di carrabbata no è stato bellissimo devo dire che che è stato anche emozionante per tutti e due perché era inizialmente imbarazzo erano e poi si sono parlati ovviamente a lui non avevano chiesto niente lui non lo conosceva di persona non era uno di quelli insomma che avevano fatto quella famosa intervista sulla collina però è stato è stato è stata una situazione molto molto particolare e poi dopo l'ho rivista l'ho rivista Slavyansk poco prima che il suo gruppo prendesse Svyatavirsk a nord di Slavyansk e e poi l'ho incontrato qualche mese fa su nella nella regione di Kharkiv loro stavano operando verso Cremina quindi in quella zona e sì lui sta combattendo è è ufficiale molto brutto è ufficiale fa parte di un gruppo di ricognizione di intelligence della Guardia Nazionale quindi ha questo gruppo di pazzi di ragazzi molto coraggiosi che che fanno intelligence sul territorio e fanno ricognizioni è anche molto cambiata la Guardia Nazionale rispetto al al 2014 la Guardia Nazionale ebraina l'addestramento loro adesso è altissimo devo dire veramente è un addestramento di tipo nato di tipo occidentale quindi terza forza è diventata insomma un esercito più che ah qui giustamente qualcuno chiedeva questa cosa io per lì non ti ho detto niente la chat super figa con i giornalisti ce l'avete su Facebook sì ma è stranissima questa cosa su Facebook beh è una chat che è stata creata anni fa ovviamente non è visibile però si può entrare su invito e c'è questa chat e poi appunto ci sono queste sotto chat che ne so sull'Iraq sull'Asiria sull'Ucraina su qualsiasi paese dove c'è una situazione di crisi comunque dove ci si scambia informazioni fixer ovviamente non viene dato tutto in chiaro perché anche lì non siamo sicuri che insomma ci sia qualcuno che poi beh 6-8 mila sono tanti da controllare ma qualcuno viene buttato fuori perché poi sai poi ci sono sempre come dire posizioni ideologiche magari su conflitti ci sono scontri anche tra giornalisti immagino perché non c'è l'Israeliano come un palestinese e quindi no ci sono stati dei casi anche di persone che sono state buttate fuori per comportamenti non corretti e se no appunto vabbè poi ne abbiamo per dirti in Ucraina abbiamo delle chat con i MediHub di Kharkiv adesso su Whatsapp o se no lavoriamo su Telegram di solito Signal, Telegram, Viber insomma sono quelli diciamo i canali dove ci scambiamo le informazioni però sì su Facebook ci sono queste mega comunità di giornalisti internazionali che sono più o meno attive a volte ci sono altre domande qualcuno ha altre domande le abbiamo fatte tutte quelle che avevo nello storico altrimenti liberiamo e ringraziamo Cristiano ma se avete qualcosa da chiedergli un altro minuto lo ricattiamo moralmente per risponderci posso fare un piccolo un piccolo sponsor vai vai perché non è ufficiale mi hanno dato il permesso appunto oggi ho pubblicato diciamo la copertina del mio libro che uscirà a marzo che si chiama Tutto questo dolore ed è un libro dove si parla di guerra si parla di Ucraina ma è un libro molto strano è stato definito un romanzo verità insomma è racconto del dolore del diciamo del personaggio principale che sono io fondamentalmente quindi il racconto del trauma personale traumi anche legati alla sfera familiare che si vanno in qualche modo a intrecciare col trauma collettivo della guerra e quindi c'è questo rimando continuo tra la zona di conflitto e il lettino dello psicanalista quindi è un po' particolare insomma anche una quindi è un romanzo ma basato su insomma eventi reali eventi reali mi avevano chiesto di scrivere un libro sull'Ucraina io ne ho approfittato per come dire per fare una sorta di scrittura terapeutica se vogliamo invece di fare il solito saggio quello noioso rompipalle quello del giornalista fichinzio lo sto scrivendo mi trincea no queste cose qua no c'è si parla di guerra c'è tanto c'è parte dei miei reportage che ovviamente sono stati rimaneggiati e creati con una struttura diversa all'interno del libro ci sono parti del mio diario che ho scritto sul mio sito e quindi niente quindi a febbraio sarà in tutte le librerie per paesi edizioni che è una casa editrice che è piccola ma è molto agguerrita che ha pubblicato anche libri come ad esempio quelli di Anna Zafisova e altri testi insomma molto interessanti anche sull'Ucraina e sulla Russia ed è perfetto perché così ci rivediamo quando esce il libro quindi si va bene parlarne un po' ok in diretta non mi può dirvi no no va bene va bene io ti ringrazio molto mi è piaciuta molto questa cosa per me la prima volta con un ospite su YouTube ti ringrazio molto penso che sia che sia che sia venuta bene e invito tutti a comprare e guardare Crossfire perché il giornalismo coraggioso il giornalismo fatto anche a discapito della propria salute praticamente va incoraggiato perché ne abbiamo moltissimo bisogno questo questo canale nasce per parlare di questo quindi è un tema che mi che mi sta particolarmente che mi sta particolarmente a cuore se vi è piaciuta questa live condividetela mettete dei like e scrivete cose bellissime nei commenti perché come sapete l'algoritmo di YouTube è estremamente sensibile a questo tipo a questo tipo di interazioni faccio la marchettona finale anch'io siccome abbiamo raggiunto grazie a voi grazie a molti di quelli che ho letto qui stasera i requisiti da oggi abbiamo gli abbonamenti e abbiamo per questo per questo canale quindi se qualcuno vuole contribuire a questo progetto è assolutamente è assolutamente benvenuto io ringrazio ancora Cristiano ti saluto è stato è stato bello ci ci sentiamo presto ci vediamo a questo punto quando esce il libro che si intitola tutto questo dolore sì perfetto grazie a tutti grazie a Cristiano questo era Bold Online ciao grazie a tutti